ma tutti e due bot come che è successo? oh che bello ma tu di se n'è andato godo? chi se n'è andato? ma tu di godo? dove è andato? al miami inter inter miami scusi la stagione che si vuole a prendere a cavani con se cavani è andato fin dall'inter miami a gran madrid e ora sta facendo le visite mediche col benfitto insomma sempre corso? si o ce la facciamo senza armi moriamo moriamo eh non lo so io direi almeno qualche arma dobbiamo pigliarla o un po' ne sai? e la accendi vicino a me e la accendi qua si si infatti io sento l'accento ma stasera sei pronto adesso è bombato di messaggi da posarvi ma quando venite quando venite? e la faccio il compleanno ma va un culo e io esco chiusero si attacca oh è tutto ma cazzo che c'hai visto? è niente prendi la mano? no no mi so pigliato il pompa al posto è morto ma macchiti questo coglione ma macchino tu lo vedi il compagno? io non lo vedo ok dati il compagno comunque ho due splatch più vabbè i capassi però non lo vedo devo lo splatch eh ma non mi fatti i botti di merda ah mi ammazza di tutto il spot della minchia fanculo comunque a me servono colpini di pompa nessunque io non ho mai niente insomma ho visto uno scappare però la faccio perdere guarda bene prendiamoci la macchina aspetta aspetta non ho preso le altre casse ho preso non ho preso aspetta dov'è vieni devi fare le missioni e devi fare qua no no Paco io le missioni non le sto facendo proprio ce l'ho il tempo di farmi un meglio si Paco ho preso ok stanno sparando ma se lo sia un botto allora mi sa quello la che mi è passato a fianco ok errato 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 ottimo proprio uno si chiama il 2 è un po' da me sento passi però non capisco proprio mi sono cacato ma cazzo è eccolo eh oh cazzo eh dov'è voi Paco eh io ho lo stuff se la voglia ti questo però che cazzo è madonna ma che cazzo sta sparando? ma che cazzo sta sparando? ma che cazzo sta sparando? ma che palle? ma anche io ce l'ho avuto ma questo è scioglio madonna ma scioglio fatti tu la scioglio vado ok ok uno l'ho sbagliato uno è morto uno 33 blu bisogna si prende davanti lo cazzo bianco ok è morto vedetelo tu se vuoi io ho due colpi due colpi questo qua ce l'aveva la viola eh insomma servono colpi grazie di pompa? si ok a posto allora diciamo una cosa prendiamo ah due tannica uno se l'avevo prende a posto prendiamo una macchina io dovevo lasciare uno scendino dietro vattelo appigliare l'ho già fatto ah te lo sei già fatto ok vai su vieni prendiamo qua apri la tannica presto vai vai ma come? mi spira verso parco vai più duro eh mi pinga parco per favore aspetta ma cazzo siamo ma cazzo ma cazzo ma cazzo ma cazzo ma guarda oh no vabbè 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 il la strada con la mappa doveva andare a sinistra. Ok vai sempre dritto. Pago bene o male tutta e tutta la strada quindi penso che non hai problemi. Pago non ti fai colpire. Allora ora devi andare sempre dritto Pago. Poi arrivato dove sta la più avanti dove sta il ponte devi girare a sinistra. Siamo arrivati. Oh oh. Corri Pago corri corri corri. E' la madonna. Iniziamo. Ok siamo arrivati a posto. Ehm. Un'anica di pezzino. Non cazzo però. Ok a posto. Ok posso anche lasciarla. Proviamo a fare le due splash. Come vedete si trova qualcosa qua come pure. Ok. Fatti questo vieni. Entriamo qua dentro. Ok ok. Ma qui sta caso non è lootato. Ok. Qua c'è una pozza da 50. Perta per te la pozza. Ah, tu la puzza Vai, fai, faccio io la puzza e tu le splash Ah, tu le splash, dammi la puzza Apri la cassa sopra Ok, a posto, ci sono altre splash Ok, quindi fatti le splash Ok, allora me le faccio Aspetta, io mi fermo un attimo Insomma Ok, eh Io sono senza materiale Non so te però Quanto cento di legni hai che tu stanno? Io ho novantasette di legni Cento di mattone e del 72 di capotto Comunque se trovi granate o altri cazzi Io posso uno slot libero Cosa? Sì, lo so, lo so Bot, bot Io vorrei capire Da cazzo stanno sparando Io sento che sparano Però non capisco da niente Ma guarda qua, fa davanti a me Ok A uno, eh Intero quel bot A voi intero Indiente Tutto due Sì Io ho tolto Tutto due Pure Indecito Lo devo Ok Basta I scendini pure Io ho tolto Ok, è morto Morto Posta Seguono volti Un minuto west Vediamo che c'è Ok Qua ci sono granate Io sto portando sia scendini che una splash Anzi no, una splash Una splash Eh, fammela Ti posso cercare Le granate me le porto io Quanti kill hai? Ok Insomma, cinque Oh Tu fai Tutto Ha fatto Cagare Guarda la tua cazzo Oh no Vabbè Ah, va abbastanza vicino Stavo di pesce È stato kernest encore Daj Ah di nuovo realizzi No,ional Andiamo in strada Va Che cazzo ho fatto Oh No ma che cazzo sta succedendo ma che cazzo sta succedendo wow ma tanto siamo arrivati apposta da qua c'è il cambio sul foglio a romperlo no eeeh e zomma vedete c'è qualcuno a borgo che c'è una missione da fare qua a borgo ok se riedono non c'erano oh ma perché devono atterrare sempre sti cazzo di botte ma io non lo so veramente ah fanculo ho fatto questa cosa eh io lo so io so ho avuto una brutta esperienza in singolo con la macchina sei morto? no tipo eh non mi ricordo tipo ero dentro un garage stavo piccolando una cosa intratto non mi ero accorto stava tutta la cosa stava la la danica di benzina c'è sfaglio ho fatto un colpo esplode tutto ce ne erano oh ma c'è gente là uno è cacciato uno è rotto è rotto lo so lo so lo so lo so lo so cittadini sono apposto sono apposto cittadini ok comunque questi qua stavano morendo tutti e due nel fuoco erano fermi perché li ho sparati non lo so non lo so non lo so non lo so ok ora dico un po' di legno però vuoi ok ora me lo dico però dov'è? qua già l'ho pigliato i tre colpi hai medii per caso? sono 71 ah si ce ne ho medii vieni vieni mi deve qualcosa di questa cosa? non ho questo ok ok colpi cerchino che non ho pentato tutto vieni vieni non so cosa c'è c'è chi non lo so mai c'era sempre con tutti i cittadini non ho mai capito che sto comunque ho 8 kille io io ho 5 io ho 5 ok e lasciala stare lasciala stare andiamo via noi siamo più lezzi nostri no no oh Paco ah l'angelo dell'occhio la può fare esplodere ok Paco fa attenzione allontanati da qua si si lo so infatti ci stanno fecchinando si quello che ti dicevo prima solo eh eh non lo so lo so ma possiamo stare pure qua eh si si e infatti stiamo qua qua dietro è safe qua andiamo dietro dietro? ok vabbò io mi sono andato un attimo qua va bene ma poi siamo amicini ottimo ah quelle sono i nostri madonna ho visto la settica avanzava pensavo che c'era gente che costruiva dietro di noi insomma eh perché la ragazza è solo e ferme oh oh cazzo oh oh non capisco ok dai dietro mi sono andato ah no 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 24 blu andiamo per la safe pago vado per la io c'è l'urto quello dov'è dove sta il loot si ma dove cazzo è il loot? io non l'ho visto proprio prima oh 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 no poco ce ne abbiamo pure uno davanti si eh così mi pare un po' evitivo però a me bianco è bianco è bianco dietro davanti qualche bianco di trovare a questo po che ci abbiamo nel lato avete rotto il cazzo ma andiamo a trovare dietro e bianco e niente ok è atterrato pago pago è morto quello là sulla collina cioè non sulla collina quello là dietro pago è morto è morto ma tu dove cazzo è qui spaccala ossa ma ammazzati mamma mia io ci ho trovato ma che cazzo dai la madonna ma quanti cazzo ce ne sono io non lo so sai la chi me l'ha data pago sei uno contro uno contro dio 33 non l'ho capito cazzo cazzo ma 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 questo a me si ha tanto di botte questo ho finito te però la pace 9 kill ma dove avrei avuto il sto shieldando un attimo sto prendendo tutto sto shieldando un attimo si si ma ho a tutti gli iti di entro guarda ma la fa un culo ma la smetti ma la smetti cazzo